www.radioabm.com Nella lettura dei quotidiani il Corriere delle Alpi e il Gazzettino di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti nelle due prime pagine. Cominciamo con il Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. Titolo messo in primo piano. Difide ai sanitari ribelli. Cinque giorni per vaccinarsi. Partono le lettere al personale dell'USL che non si è messo in regola con l'immunizzazione. Si comincia da chi non ha aperto la PEC con il primo avviso. Gli irriducibili saranno allontanati. L'USL si muove contro i dipendenti che non si sono voluti ancora vaccinare contro il Covid-19. Sono in spedizione. Le diffide contengono un ultimatum. Cinque giorni per mettersi in regola con l'immunizzazione. Pena un procedimento che può portarli ad un veloce allontanamento. I primi indirizzi sono quelli di chi neppure ha ritirato la raccomandata con il primo avviso o ha aperto la PEC. L'approfondimento di Dallanese a pagina 5. Belluno. Zanzare e tigre fino a mille metri. La Iapponicus conquista spazi. Con l'esposizione del caldo tornano le zanzare e conquistano quote. La tigre fino ai mille e spazi. La Iapponicus verso ovest. Antavirus. Febbre da topo. Caso sospetto in provincia di Treviso. Un cinquantenne è stato ricoverato in ospedale a Vittorio Veneto per il morbo che si trasmette dai roditori infetti. E ancora dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Camera di commercio. Pozza-Zampol. Il ticket resta. Belluno porta quattro donne. Il presidente uscente della Camera di commercio confermato all'unanimità. Zampol pronta per la vicepresidenza. Crisi in Valbelluna. Intesa con clienti e fornitori. Produzione a CC anche in estate. L'azienda non si ferma. L'accordo mediato dalla regione concede altro prezioso ossigeno all'azienda di Melle. L'approfondimento di Dallanese a pagina 17. Ancora Livina Longo. Nuovo autovelox con doppia falla. Il giudice annulla quattro verbali. Alla base delle sentenze, regolarità di due tipi nei verbali, l'opposizione. Cosa diciamo a chi ha già pagato all'approfondimento di Soratroi a pagina 26. E la foto di copertina ci porta Feltre che mette in piazza i suoi legami con Venezia. Una gondola in piazza maggiore per celebrare il legame secolare tra Feltre e Venezia. La tradizionale barca veneziana, simbolo dell'edizione 2021 della mostra dell'artigianato che prenderà il via domani, è approdata ieri pomeriggio in centro storico. Spinta a forza di braccio a lungo via Mezzaterra da un gruppo di volontari capitanati dal presidente della rassegna Luciano Gesiotte. L'approfondimento di De Barba a pagina 21. Questa è dunque la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. Incominciamo con l'edizione nazionale per poi proseguire con l'edizione riferita al territorio bellunese. Ecco la prima pagina del Gazzettino. Disco e stadi, le nuove regole. Notizia messa in primo piano. Locali da ballo, verso la riapertura il 10 luglio servirà il Green Pass ma non la mascherina. Calcio, il governo vorrebbe riportare negli impianti il 25% del pubblico, la FIGC il 50%. Europei, scontro sulla finale a Wembley. Merkel, la UEFA, sia responsabile. Ancora il caso, il Vaticano no alla legge Zan. Flick, norme da cambiare. Misurina, la stalla più alta del Veneto. Il Tar è di Auronzo. Malga, alto adige stoppato. Niente asta. Il Tar blocca l'asta per la gestione della Malga. È di Auronzo. L'approfondimento di Pederiba. A pagina 13 quindi notizia che troviamo nell'edizione nazionale che ci porterà in provincia di Belluno. E sempre la firma di Pederiba, sanitari Novax, metà lavora nel nord-est, Veneto, tutti vaccinati. Dei 45.000 medici e infermieri senza siero, oltre 22.000 sono in Friuli, Emilia e Trentino. La sentenza, la consulta, apre la via allo sblocco degli sfratti. È illegittima la proroga dello stop al pignoramento della prima casa introdotto dal decreto Curo Italia. L'ha stabilito la consulta. Abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda l'edizione del Gazzettino di Belluno. Cortina, stanza rotante sotto le stelle, una notte a 700 euro. L'approfondimento di Di Bona, pagina 13 dell'inserto. Addentriamoci immediatamente all'interno di questa edizione del Gazzettino, pagina 2. Sulla finale degli europei, Merkel sfida Johnson, ma la UEFA resta a Londra. La cancelliera ha pericoloso riempire gli stadi inglesi, previsti 60.000 sugli spalti, tensione con il Regno Unito. E da luglio vita difficile per i cittadini UE in Inghilterra. Tutto questo con il titolo Calcio e politica. Bocciato lo stadio arcobaleno anti-Orban, l'UEFA nega lo stadio arcobaleno al sindaco di Monaco di Baviera. E il primo cittadino promette di colorare i palazzi di tutta la città. Appoggiato dal resto della Germania ed Europa, Calcio e politica tornano a fondersi durante gli europei. Questa volta in vista della partita Germania-Ungheria. Ed ecco uno scatto di come si presenta l'Allianz Arena illuminata con i colori arcobaleno del movimento LGBT. Ancora dal calcio, Serie A ripartenza a porta aperta, l'obiettivo riempire gli spalti al 50%. Il sottosegretario alla salute Costa, vorremmo partire con il 25. I dubbi dei club sul ritorno degli abbonamenti. Il ritorno in pista, pista da ballo ovviamente. Siamo a pagina 3, le discoteche riaprono, obbligo di green pass e non di mascherina. Via libera dal CTS, impossibile vietare il ballo, coprirsi il viso solo raccomandato. Aperture entro il 10 luglio si entrerà, se vaccinati o con test rapido negativo. Il comitato tecnico-scientifico, meglio indicare le regole che lasciare spazio a iniziative senza controlli. Contagi tacciuti, promiscuità e pin-up senza chirurgiche, al billionaire ripartì il virus. L'inchiesta sull'estate 2020 in Costa Smeralda, indagati gli amministratori di tre locali. Continuiamo con pagina 5. Il virus e le regole, sanitari non vaccinati, metà lavoro a nord-est. Tra Friuli, Venezia, Giulia, Emilia Romagna e Trentino, 22.266 operatori senza iniezioni, ora via alle sospensioni. Invece il Veneto e l'Alto Adige hanno azzerato le liste d'attesa. In Friuli, Venezia, Giulia, attacchi dei Novax ai vertici sindacali. Leoni, ordine dei medici, spiace che non basti il valore etico. Questa è la tabella che rappresenta l'avvicinazione dei sanitari a livello nazionale. Possiamo vedere che allo stato attuale i sanitari in attesa di una prima dose o una dose unica sono 45.753 pari al 2,36%. Diamo uno sguardo alla nostra regione. La regione Veneto segna lo 0%, quindi sembra che tutti i sanitari in Veneto siano vaccinati. I fondi per la ripresa, il rilancio dell'Italia. Draghi, spendere bene con onestà. Von der Leyen a Roma per l'approvazione del PNRR e il Premier. Stavolta useremo i fondi Mattarella, il Presidente della Repubblica per il Paese a un nuovo inizio. Non torneremo come prima della pandemia. E questa è la frase storica. Questa è una opportunità che viene una sola volta nella vita. Il vostro successo sarà il nostro a dichiararlo. Ursula von der Leyen che vedete in questo scatto con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Dalla Superbonus al turismo e quei primi 100 progetti approvati, già consegnato a Bruxelles un elenco con 14 miliardi di investimenti nel 2021 tra le priorità TAV e Transizione 4.0. E il Nord-Est sta con Draghi. Faccia anche le riforme. Una netta maggioranza favorevole non solo all'arrivo alla scadenza del 2023, ma anche a una prosecuzione per la gestione dei fondi del PNR. Presa questa la dichiarazione per quanto riguarda il Nord-Est dal sondaggio fatto a cura di Adriano Favro, che ha curato questa pagina per il Gazzettino. Ma andiamo avanti con lo scontro sull'omofobia. DDL-Zan Draghi Media tra Chiesa e maggioranza. Sì, alla legge con modifiche. L'intervento senza precedenti del Vaticano per cambiare il testo del provvedimento. Il PD apre a correzioni, ma poi frena divisa la maggioranza. Il Premier parla alle Camere. Il Capo del Governo dialoga con la Curia. La von der Leyen, la UE difende la diversità e la libertà di parola si trovi in equilibrio. Ma questo è il disegno di legge contro l'omotransfobia e la misoginia. Cosa contiene questo DDL-Zan? Punta a modificare gli articoli 604b e 604ter del Codice Penale in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Estende agli episodi d'odio fondati sull'omofobia e sulla transfobia i reati già previsti nel Codice Penale. Aggiunge la discriminazione fondata sul genere e sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Il relatore Alessandro Zan del PD alla Camera ha approvato in prima lettura la Camera il 4 novembre 2020. I partiti contrari Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il presidente merito della consulta rischia di essere applicata in modi diversi dai magistrati. Questa è la dichiarazione di Giovanni Maria Flick. L'intervista a Giovanni Maria Flick. La mossa vaticana è lieve. La legge non limita la libertà ma va cambiata. Non è chiara. E gli artisti si schierano contro i Vescovi. Elodi, per fortuna, non sono battezzata. Oggi un ringraziamento speciale va ai miei genitori che non mi hanno battezzata. Grazie. Così la cantante Elodi ha commentato sui social la notizia dell'intervento del Vaticano sul DDL Zan. Critiche anche da Fedez e Paola Turci. Continuiamo con la lettura del Gazzettino. Un fatto di Corona che ci porta a pagina 12. ha due anni, sparisce nei boschi. Tutto il Mugello cerca Nicola, soffre di sonnambulismo. I genitori disperati l'abbiamo messo a letto e la mattina dopo non c'era più. In azione elicotteri con termoscanner e cani molecolari. I sub non è nel lago. Lunedì sera i genitori hanno messo a letto Nicola, quasi due anni, e suo fratello di quattro. I piccoli si sono addormentati tranquilli dopo il bacio della buonanotte e un'ultima occhiata prima di spegnere le luci. Ma al mattino Nicola era scomparso. Alle dieci mamma e papà, disperati, hanno lanciato l'allarme. Nicola è sparito. La risposta potrebbe arrivare da un suo disturbo del sonno. Il bimbo soffriva di sonnambulismo. È ciò che trapela dai primi elementi raccolti. Altri episodi si sarebbero già verificati e potrebbero spiegare perché il bambino non era più nel suo letto. Senza successo le ricerche ieri di Nicola Tanturli, che vedete qui sopra in questo scatto. Il bimbo di neanche due anni è scomparso dalla casa dei genitori a Campanara, nella Pannino Toscano. Notizia che ci porta in provincia di Belluno e che troviamo nell'edizione nazionale del Gazzettino. Giù le mani dalla Malga, Misurina e di Auronzo. Il TAR accoglie ricorso dell'attuale gestore contro l'asta bandita dal comune, bene di uso civico e della collettività. Stop alle mire delle aziende altoattesine. Il Maso, costruito nel 1921, costituisce la stalla più alta del Veneto con i suoi pascoli e a quota 1815 metri. Malga Misurina si trova nei pressi dell'omonimo lago, situato nel territorio di Auronzo di Cadore. Andiamo avanti con le notizie che riguardano in questo caso la provincia di Belluno. Leggiamo quindi l'inserto, il Gazzettino di Belluno. Passiamo immediatamente a pagina 2. Ecco la notizia in primo piano. I comuni non sono in vendita. I sindaci pronti alle barricate in difesa dei micromunicipi. Belfi del comune di Vodo, abbandonati dallo Stato, si dimentica dei piccoli. Ienese di San Nicolò, non ci uniamo per avere una miseria. Scopelle di Seren del Grappa. Enti più grandi non danno risposte migliori. Ed ecco la mappa della provincia di Belluno con i contributi statali ottenuti 2014-2021, popolazione 2021, su un totale, su una media e su una media annua per abitante. Vediamo attualmente quindi i comuni di Alpago. Voi sapete che è uno dei comuni che si è fuso in questi ultimi anni. a 6.727 abitanti ha ricevuto un totale di 5.835.541 euro di contributi. La Val di Zoldo, altro comune che si è fuso, 2.883 abitanti, ha ottenuto 3.446.681 euro di contributi statali. Longarone ha anch'esso fuso con il comune, in questo caso di Castellavazzo, 4.964 abitanti e ha ricevuto 7.600.160 euro di contributi. Borgo Valbelluna, 13.407 abitanti, ha ricevuto 5.685.738 euro. E infine Queirovas, 3.079 abitanti, ha ricevuto 3.751.697 euro di contributi. Il referendum di fusione dei comuni in Veneto per provincia, approvati e respinti. Approvati in provincia di Vicenza, 5, respinti 3. Belluno, approvati 5, respinti 2. Padova, approvati 2, respinti 3. Treviso, approvato 1, respinti 2. Rovigo, approvato 1, respinti 2. Verona, 0, respinti 3. Venezia, nessun referendum per la fusione. Quindi in totale, a livello Veneto, sono state approvate la fusione di 14 comuni e invece è stata respinta la fusione di 15 comuni. La spiegazione e la mentalità dei nostri territori sono difficili da unire. I cittadini non si adattano. Padrin favorevole alle unioni perché senza personale non ci sono servizi per i cittadini. C'è una disaffezione verso l'attività amministrativa. Abbiamo municipi commissariati e liste civette. Sarebbe interessante ascoltare anche qualche testimonianza dei cittadini che si trovano in questi comuni per sapere direttamente da loro se si trovano meglio o peggio dopo queste fusioni. Altra notizia. Le comunità più unite dei municipi. Noi ladini belunesi già assieme ai Herkler e Federazione Ladina del Veneto, territori che si riconoscono nella lingua le funzioni dell'Istituto Ladina e della Dolomites, riassorbite dalla provincia, nascono sportelli dedicati. Pagina 4. Decolla l'elisoccorso. L'Usla fida il servizio a un'azienda inglese. La Babcock si occuperà della gestione dei voli, fornirà i mezzi e i piloti. Il contratto durerà sei anni. Il costo è di 22 milioni di euro. Notizia che ci porta invece a Belluno. Nuovo Palazzo Crepadona. C'è il tetto con vista sul cielo. Ecco appunto il tetto che è stato realizzato all'interno di Palazzo Crepadona. Potete vederlo in questo scatto. E andiamo avanti con l'incidente. La Porsche urta al bus. Paura per i passeggeri. A causare il tamponamento, probabilmente il guasto allo pneumatico dell'auto sportiva ha fatto accaduto in via Cusighe, sempre in provincia di Belluno. La protesta CGL Anas, una gestione fallimentare. La provincia gestisca le nostre strade. Pagina 5. Offese al ministro. Due a processo. Ex attivista del Movimento 5 Stelle. E un amico querelati da Dinka dopo gli insulti sui social. Ora si tratta per far ritirare la querela. Li diedero del parlamentare inutile. Definendolo Patacca. Un imputato. Eletti per la rivoluzione sono diventati preti. L'amore in rete. Ellison e Giovanni. Al matrimonio gli invitati restano in smart working. E ancora a Mario Pozza non servono neppure le urna. Acclamato. Stiamo parlando del neo eletto presidente della Camera di Commercio. Belluno Treviso. Pagina 6. Feltre. Samantha curata a Vipiteno. Temo di non vederla più. Oggi la trentenne in coma vegetativo sarà trasferita dall'ospedale in una clinica. La disperazione della madre Genzianella potrebbe peggiorare. Vorrei starle vicino. Samantha Dinka sarà trasferita oggi in una clinica di Vipiteno. Siamo in provincia di Bolzano dove inizierà la riabilitazione. Questo trasferimento è per noi un'agonia. Samantha si allontana da casa. Ci sono possibilità che peggiori e anche se ne vada per sempre e se avverrà spero di essere lì a tenerle la mano. Mamma Genzianella ha preso la notizia non dai sanitari dell'ospedale di Feltre dove la figlia è ricoverata ormai da oltre tre mesi ma dall'amministratore di sostegno nominato dal tribunale. E sempre da Feltre alla mostra dell'artigianato la gondola giunta da Venezia si consolida il legame tra montagna e laguna basato sul legno. Continuiamo con la lettura del gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 11. Centri estivi. Luxottica paga le tasse e ancora a Cicci. Avanti col freno a mano e con la cassa integrazione in attesa di liquidità. Il sito continuerà a produrre ma solo per i principali clienti. Prevista l'attivazione della cassa integrazione per non pesare sulle tasche dei 309 lavoratori. Volpe ferita in strada. Qualcuno intervenga. La notizia ci porta nel comune di Sedico. Ed ecco la piccola volpe ferita a bordo della strada. Cortina d'Ampezzo. Mini hotel a migliaia di stelle per dormire avvolti dal cielo. Installata a 2300 metri sul falzarego. La stanza in vetro è in grado di ruotare. Campigotto una lunga lista di attesa. Notte con cena e colazione a 700 euro. Ed ecco uno scatto perché si sta guardando da Facebook o YouTube della Starlight Room Dolomites. È aperta in ogni stagione e sopra il cielo e le cime e fuori solo marmotte e volpi. Passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci immediatamente all'interno delle notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 8. Sanitari Novax. L'USL 1 manda le diffide. Le contestazioni indirizzate a chi non ha ritirato l'invito a vaccinarsi o non ha aperto la PEC. Gli ordini pronti alle sospensioni. L'articolo è firma di Paola Dallanese. Saranno spedite nei prossimi giorni. Le lettere di diffida a chi tra i dipendenti dell'USL numero 1 Dolomiti non si sono voluti ancora vaccinare contro il Covid-19 e per questo non hanno né ritirato la raccomandata inviata loro ancora mesi fa dall'azienda o non hanno aperto nemmeno la posta arrivata tramite PEC. Una volta arrivata la diffida, questi lavoratori avranno tempo 5 giorni per immunizzarsi. Se non lo faranno, scatteranno i provvedimenti conseguenti che porteranno non solo alla sospensione dalle loro mansioni ma anche dagli ordini professionali a cui appartengono. A dirlo è il direttore del Dipartimento di Prevenzione che si occupa anche della gestione di questi casi e che avverte che gli ordini sia dei medici che degli infermieri sono pronti a sospendere e chi non si vorrà immunizzare senza addurre motivi di salute ritenuti validi dalla commissione appositamente istituita dall'USL. Fardello Green Card per i medici di base. Siamo trattati come factotum, il fiduciario della FIA MMG Fabio Bortotta è critico. Aiuteremo soltanto chi è davvero da solo. E andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. Siamo a pagina 15 del Corriere delle Alpi. Pozza confermato e Zampol resta vice. Belluno porta un drappello in rosa. Cinque delegati bellunesi nel nuovo consiglio, quattro donne e allarme per l'appetito della criminalità sull'economia. Ed ecco alcuni scatti dei nuovi rappresentanti della Camera di Commercio di Belluno Treviso. Mario Pozza è al secondo mandato, è titolare di un laboratorio odonto tecnico a Motta e presidente di Union Camera Veneto. Nadia Zampol sarà la nuova vicepresidente, delegata da Confindustria, conduce Lamartine Occhiali e fa parte di Anfao. Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio, aveva guidato la Camera di Commercio prima della fusione. Michele Amarrone, presidente dei commercialisti di Telebelluno, è anche revisore all'ente Parco e alla Fondazione Dolomiti. Ivana Del Pizzo, presidente di Donne Impresa Confartigianato, coordina gli acconciatori e le estetiste. Infine Emanuela De Zanna, direttrice della cooperativa di Cortina, in precedenza aveva lavorato alla Banca Reale S.P.A. Pagina 16, minoranze linguistiche, valorizzare la cultura ladina, riaprono gli sportelli territoriali e parte di ITER per acquisire il patrimonio librario. De Bon, l'identità e la specificità del nostro territorio passano anche da qui. Fusioni convenienti ai nuovi comuni, 26 milioni in 7 anni, Val di Zoldo al top. L'indagine della Fondazione Think Tank Nord-Est rilancia la tematica, arrivano risorsi importanti in Veneto, 41 milioni dal 2013 al 2021. Notizie che riguardano sempre quindi la fusione dei comuni, notizia già letta anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Spazio adesso alla situazione della CICI. Accordo in regione, la CICI non si ferma, produzione garantita anche in estate. Trovata la disponibilità di clienti e fornitori, l'attività permetterà di agganciare i soldi previsti dall'articolo 37 del DL Sostegni. Intanto da domani partirà la cassa Covid fino al 30 giugno e poi la straordinaria. Salute, volo notturno, servizio affidato ma si partirà soltanto nel 2022. Viabilità, la fil CGL contro Anas, la provincia si prende anche le strade statali. Notizie trovate anche nell'edizione del Gazzettino. La ricerca, zanzare tigre fino ai mille metri, la Japonicus colonizza la città. Le fastidiose punture iniziano a farsi sentire, scattano i piani di monitoraggio. Lo studio porterà a mappare la distribuzione degli insetti in tutta la provincia. Uno studio per aggiornare la mappa della distribuzione in provincia delle zanzare appartenenti alla specie invasiva delle Aedes, di cui fanno parte le zanzare tigre, la Coreicus e la Japonicus. In un periodo come quello estivo in cui iniziano a farsi sentire le fastidiose punture di questi insetti è partita la ricerca da parte di alcuni laureandi delle professioni sanitarie sotto la guida di Marco Dal Ponte, che vediamo in questa foto, responsabile delle professioni sanitarie della prevenzione dell'USLA Dolomiti e della sede universitaria di Feltre. La campagna di profilassi, encefalite da morso di zecca, le vaccinazioni sono ripartite. Pagina 19, Litis Segato e Culla di Centini, ben 5 nella sezione BMM. I risultati dell'esame a Belluno, esposti i voti anche a Regnera, Alcalvi e Alcatullo. Nella nuova infornata, 19 diplomati con il massimo dei voti e 8 lodi. Pagina 20, il caso, il velox sulla strada provinciale numero 1, finanzi e lavori sulle strade, ancora mille multe al mese, resta alto il numero di sanzioni fatte a case Fagerazzi, il comune ha incassato 300.000 euro in più e li investirà in sicurezza. Notizia di spalle, forze dell'ordine, Demenic ora serve potenziare gli organici. E ancora da questa pagina, viabilità, fine settimane di gara e Castion scattano di viti. Sabato e domenica in programma la gara di Coppa Italia in Line Alpin, cambia la viabilità nelle vie Pian delle Feste, primo maggio nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Primo Capraro e l'intersezione con via Edmondo De Amicis. Pagina 21, Feltre, la denuncia movida con schiamazze e danni esercenti ai residenti esasperati. I residenti di via Monte Cauriolo qui non si dorme più, esposto in prefettura ai vigili già segnalata la situazione, presto il Comitato Sicurezza Pubblica. E vediamo appunto alcuni atti fatti da diversi vandali, come la rottura di una serie di tergi cristalli, di auto ovviamente dei residenti e anche imbrattamento di porte e quant'altro. Una gondola in piazza maggiore celebra legame con Venezia, notizia che abbiamo trovato come foto di copertina, il caso dal piazza Metadura, già quattro soccorsi. I gestori e il CAI lanciano un appello agli escursionisti, bisogna essere preparati, un intervento ogni due giorni. Notizia di spalle, Fonzaso, schianto auto-moto lungo la strada alle 50, trentenne in ospedale. E ancora strade per le malghe tra Lano e Possagno, l'alleanza per i lavori. Sempre dal Feltrino, nuovi lavori a caupo, strada più larga e un nuovo barbecue. Pagina 23, Cesio Maggiore, pista ciclabile, e cantiere avviato entro settembre, tracciato finito. Soddisfatto il sindaco Carlo Zanella, è un progetto di rilevanza strategica. A Busche verrà creato un collegamento tra la stazione e piazza Aratiba. Centini adulti e giovani si raccontano, un successo dopo mesi di Dada, la maturità negli istituti Feltrini, non sono ragazzi licenziati con un diploma, ma anche qualche grande delle serali. Ed ecco, alcuni scatti dei ragazzi, e non solo che si sono diplomati in queste settimane. Siamo a Feltre. Pagina 24, Ponte Nelle Alpi, terminata la ristrutturazione, sabato riapre il Teatro Piero Bon. L'intervento in più stralci era iniziato nel 2017, sono stati investiti 757 mila euro. Ora il piccolo di Paiane è operativo, Darolda è il vice sindaco del comune di Ponte Nelle Alpi, ma la stagione riparte a settembre. Valdizoldo, elezioni, De Pellegrini è pronto e attende a che arrivi lo sfidante. Il sindaco uscente si ricandida, la sua lista è quasi chiusa, l'opposizione è al lavoro, ma non ha ancora sciolto tutte le riserve. Al pago sfruttamento della prostituzione, il fidanzato non si prostituì, assolto 11 anni dopo. Un croato è stato scagionato dalla Corte d'Appello dopo che in primo grado il gruppo l'aveva condannato a due anni e otto mesi. Portare l'itiderario buzzati fino a Valmorelli, il progetto di Limana nel cinquantesimo. Si attende l'esito di un bando per il finanziamento nel calendario 2021 e 2022, anche eventi e iniziative culturali. E sempre da Limana partono i centri estivi, bambini e ragazzi divisi tra Navasa e la Cal. Violenza privata, aggrappata alla sua auto, ferma una vicina di casa, il fatto accaduto a Sospirolo. E ancora da Borgo Valbelluna, anziano automobilista, manca una precedenza. Otto mesi in biblioteca. Pagina 26, Livina Longo del Col di Lanna, il giudice annulla quattro multe del nuovo autovelox di Brenta. Alla base delle sentente ci sono irregolarità di due tipi contenute nei verbali. L'opposizione tuona, cosa direte ai cittadini diligenti che hanno pagato. Voltango a Gordino, continua l'attesa dei lavori per sistemare via l'Europa e riaprire la strada del poi. Ed ecco la buca che si è aperta di fronte all'ex baita del bianco appunto sulla strada del poi. Cortina, la Lavaredo Ultratrail lancia l'estate di Cortina. Grazie alla gara internazionale gli alberghi fanno registrare il tutto esaurito. Alverà finalmente si riparte, l'inverno è stato difficile a parte i mondiali. Ed ecco uno scatto, uno spettacolare paesaggio di una delle passate edizioni della Lavaredo Ultratrail. Guardate che meraviglie che abbiamo ovviamente in provincia di Belluno. Venite in provincia di Belluno. Valle, la minoranza interroga sulla Smart Road. c'è poca chiarezza e ancora gli esami di maturità. Siamo a San Vito di Cadore, Rorato, Tremonti e Valleferro, le centine al liceo di San Vito. Come elico superiore la rinascita di Malga Melin grazie a un gruppo di giovani. Marco Martini ha raccolto l'invito delle regole di San Nicolò, Costa e Danta. Il momento è difficile, il momento è difficile, ma ci siamo mossi per l'amore per il nostro territorio. E sempre da San Vito notizia di spalle, truffa l'ex moglie e l'agente immobiliare sulla casa da vendere. Passiamo alla rubrica cultura e società, il festival, fotogiornalismo quando l'arte interroga oggi. A Padova scatti che devono urtare la sensibilità per acquisire la consapevolezza e sentirsi responsabili sempre. Spettacoli, biennale, teatro, una polveriera di emozioni blu, 11 spettacoli e due performance di resistenza attiva per restituire al cittadino gli strumenti per la sua crescita. Tutto questo a Venezia. Dalla rubrica bellunese giorno e notte, Dolomiti Arena, Cilloni, Straga e Sonara, dalla Vena a Forte Leone note rilanciate sulle cime. Quattro concerti all'alba finanziati con la tassa di soggiorno, consorzio Dolomiti prealpi, l'Unione Montana Feltrina assalute novità. Notizia di spalle, 29 e 30 giugno, iTunes parte il casting, un nuovo documentario sul mondo dei giovani con la regista Alessia Buiatti. Santa Giustina, Riccardo, Mister Talent Show, modello per puro caso, vince il concorso sul Garda. Questa notizia riguarda Riccardo dalla Rosa e ancora Belluno, un caffè a colori alla Liberia Tarantola. Passiamo adesso alle notizie che riguardano lo sport bellunese, corbanese in difesa, non ho ancora sentito i dirigenti della fusione o anche altre offerte. Questo per quanto riguarda il calcio di Seredi e la fusione delle tre squadre bellunisi. Il Giro del Veneto si deciderà nella tappa Sospirolo-Falcade, ciclismo, tutto questo sabato 3 luglio. Calcio, terza categoria, San Vittore, Corso resta presidente, vogliamo potenziare il bivaio. Il raduno, il Nevegalfa, ben agli azzurri di Frischi, due giorni di lavoro nella rinnovata area della Valbelluna, Fabrinetti, la nostra struttura adatta per gli atleti top. Schirola, la Coppa Italia ritorna nel weekend in Nevegale, in palio, titoli regionali. Hockey, Alps League, Cordiano, addio al Cotinaffro, la Svizzera grande occasione. E ancora dallo sport bellunese, calcio, i campionati europei, Franco Foda, il CT dell'Austria, aveva il papà di Vittorio Veneto, viaggia nel quartiere di San Lorenzo, dove è nato il padre Enrico, fieri di lui, abbiamo visto tutte le sue tre partite, ma sabato tiferemo comunque per l'Italia. Volley, play-off di Serie B, Claudio Affiabane stringe i denti, il Cortina Express ci crede, la centrale giocherà ancora con un tutore alla mano, la gara 2 di sabato alle 21 a Torino fa male, ma sono super carica, possiamo anche vincerla. Passiamo adesso alle previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, prima di salutarci, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle zone pedemontane e montane di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso-nuvoloso, venti sulla pianura in prevalenza da sud-ovest, deboli fino al mattino e moderati dal pomeriggio. Mare poco mosso, temperature simili a mercoledì. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Bellun, vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina a luna, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'associazione bellunesi nel mondo. a η Grazie a tutti.